Il problema del giallo, per me il giallo non è Dario Argento, Dario Argento è suspense, bravissimo, bellissimo, ma per me il giallo è più Agatha Christie, è più dieci piccoli indiani, i Clouseau, non voglio barare con lo spettatore, perché è chiaro, io mi ricordo che quando usci, uscire le piume di cristallo, mi chiamò Goffredo tra l'altro poco prima che uscisse il film, mi disse ho fatto fare la regia al figlio del mio direttore di produzione, perché il papà di Dario era direttore di produzione da Titanus, il film è un po' così, però ho avuto un'idea, che cosa hai avuto? Ah, un'idea di presentazione, porta in sala e mi fa vedere due mani guantate, ancora ci sono immagino, due mani guantate, una macchina da scrivere e le dita battono ore 17, uccidere Giovanni, io comincio a ridere come un pazzo, dico perché ammazza questo qui, quanti ne ammazza questa settimana? Perché ora 17, cioè nell'agenda, ora 17 uccidere Giovanni, è una bella idea, ma sì, è divertente, dopo di che vado a vedere il film e alla fine del film per tutto il film c'è un personaggio che dice, porca miseria c'è qualcosa che mi sfugge, c'è un dettaglio, c'è qualcosa che mi sfugge, non capisco, poi alla fine dice, ah non era lui che cercava di ammazzare lei, era lei che cercava di ammazzare lui, ma dai su! Ora questo tipo di soluzioni qua, secondo me non sono più giallo, perché allora siamo a Woodhouse, quando Woodhouse scrive il suo unico libro giallo, alla fine dice l'assassino è stato Mario Rossi così abile da non apparire mai in questo romanzo, capito? E quindi sì, io ho mantenuto finché ho potuto un po', poi anche perché poi si sono succeduti uno dopo l'altro con una certa rapidità, per cui tenevo perfino i nomi dei personaggi, le cattive si chiamavano Aileen Oshina, in maniera che le avevo già in mente ed era più facile scrivere i dialoghi che più o meno sapevo. La componente erotica rosa, molto rosa. Fa parte della vita, quindi perché non nei gialli ovviamente, poi dovendo giocare con pochi personaggi, se si metti due uomini e due donne, che fai? Gioca una scacchia e basta? Cioè è chiaro, per forza, i rapporti diventano anche vagamente erotici. Nel caso di libido l'erotismo era tutto fuoriscena, era molto pesante fuoriscena, cioè il padre che ammazza il sadico, che ammazza le donne davanti all'occhi del bambino piccolo, che ne rimane traumatizzato. tra l'altro su questa cosa c'è un piccolo episodio che quando incontravo ancora adesso un po' che non lo vedo Vittoria ma si rideva insieme perché nel copione, nella prima pagina del copione c'era la didascalia ma quella che batte allora c'era la datilografa, invece dei traumi dell'infanzia scrive i trumi dell'infanzia e Siciliano ci chiede cosa sono i trumi dell'infanzia allora dato che dipendeva il fin da lui che doveva ancora firmare il contratto non potevamo ridergli in faccia e dire i trumi dell'infanzia sono i grumi della psicanalisi una lunga spiegazione, non capiva niente, Mario era bravo a fare il suo mestiere per cui ridiamo ancora oggi sui trumi dell'infanzia perché poi dicevamo adesso quando vedrai la didascalia ovviamente c'è scritto i traumi sullo schermo, non se ne ha accorto era una persona onesta, tanto per cominciare bravo a fare il suo lavoro, faceva distribuzione regionale quindi riusciva a piazzare bene i film in tutte le regioni ma la gente che faceva il cinema, non so adesso che io sono fuori ma era di cultura estremamente limitata tutta tranne forse 10-12 sceneggiatori di grido o registi insomma la media, diciamo dalla parte produttiva, produttori eccetera eccetera cioè Lussano Martino brillava proprio per la sua provenienza intellettuale gli altri erano ex cavallari, ex macellari, baristi non è che ci fuori, non so cosa facesse Mario Siciliano prima di fare quel mestiere era una persona con le scarpe marroni con la patta bianca sopra simpatica persona era un po' di tempo che non si faceva nulla per cui la moglie cominciava a dire ma facciamo qualcosa abbiamo fatto tre figli vabbè non so, tre figli ce l'hanno tutti ormai negli anni 1981 la cosa non era più come una volta il cinema era già in grandi problematiche quindi era difficile trovare un minimo garantito ci abbiamo provato ma era difficile allora dico facciamo una cosa facciamo la pratica al ministero per avere il fondo ministeriale e così vediamo se ci danno un po' di soldi magari lo facciamo per cui comincio la pratica ministeriale mi pare che fosse l'inizio di Craxi mi ricordo comunque perché poi ne ho fatto anche un altro ancora dopo fatto in nastro però quindi forse quelle dopo comunque faccio la pratica ministeriale e loro mi dicono sì ti possiamo dare mi ricordo 50 milioni 40 milioni però prima devi girare una parte del film cioè noi te li diamo a avanzamento eh porca miseria che avanzamento qui allora l'idea prendiamo il libido rifacciamo una specie di non è un seguito perché il libido muoiono tutti quindi non può essere un seguito però diciamo usiamo alcune scene di libido le montiamo in moviola le facciamo vedere al ministero come stato di avanzamento prendiamo i soldi e facciamo un film molto semplice per cui prendendo quelle scene di libido e se tutti in fila il ministero ha detto beh sì avete girato già una settimana e quindi ci ha dato i primi soldi che ci dava ogni settimana dopodiché ho chiamato Benito Frattari con cui abbiamo fatto la lunga spiaggia fredda e gli ho detto senti Benito scusa senti Benito dico dovremmo fare sta cosa l'avevamo già chiamato in inverno perché dico sai aveva un'idea di fare una scena strana in un film curioso se riusciamo a farlo dove si vede tutta la neve nel bosco andiamo su al Cimino vieni un giorno con la macchina da prese dove aveva tutto macchina da prese eccetera eccetera io porto Mara in vestito estivo la facciamo correre un po' nella neve e se magari ci serve e così abbiamo fatto quel pezzetto lì e ho messo via poi l'anno dopo aprile maggio quando abbiamo potuto cominciare veramente a girare al Soriano del Cimino ho detto a Benito e dico ti do il 25% del film no dice il 25% del film è troppo a Benito il 25% di niente è niente il 25% di niente Grazie a tutti. Grazie a tutti.